Liguria, l'epidemia perde intensità, lo dice l'Agenzia Ligure per la Salute che intanto si prepara l'autunno. Sarà incrementata in ogni ASL la presenza di infermieri, assistenti e tecnici della prevenzione. Sono 2.131 in Liguria le denunce per infortunio sul lavoro da Covid registrate dall'INAIL da gennaio a fine maggio. 10 hanno avuto esito mortale, più colpite le professioni sanitarie. Ritorno in classe a settembre, niente plexiglass né mascherine ma distanza tra i banchi. La conferenza delle regioni ha concordato alcune linee guida per il rientro a scuola da proporre al Ministero. Chiuso in attivo il bilancio 2019, Mediaterraneo Servizi pensa alla riorganizzazione degli eventi e delle iniziative per l'estate a Sesti Levante. Rapallo si affida a Maria nel segno della speranza. Per le feste di luglio non ci sarà la tradizionale processione e la sera del 3 luglio messa in piazza del comune con il quadretto di Montallegro. Debutta questa sera sui canali di Telepace la rassegna nazionale Vincerò, progetto in collaborazione con la diocesi di Tortona per sostenere i musicisti. Primo concerto con la Sinfonia di Beethoven. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro telegiornale. La sanità in apertura. In Liguria l'epidemia sta perdendo intensità, a dirlo il commissario straordinario di Alisa, Walter Locatelli. Il numero quotidiano di nuovi contagi spiega si riferisce soprattutto ad asintomatici che non vengono ricoverati e che vengono trovati con la ricerca mirata di test e tamponi. Intanto la sanità della Liguria si prepara già all'autunno. Sentiamo. Il monitoraggio quotidiano ci conferma che l'andamento è quello di una epidemia che va scemando. È fiducioso il commissario di Alisa. Il trend segue le previsioni e la sensazione corroborata dagli ultimi confortanti dati sui ricoveri, 106 ospedalizzati e tre terapie intensive e dei contagi. I nuovi casi, spiega Locatelli, arrivano soprattutto dai territori, dagli ospedali e dalle RSA. Attraverso la ricerca mirata non arrivano più dai pronto soccorso. Qualcuno pensa che fanno i tamponi, si fanno in modo non coordinato, non pianificato. No, vengono fatti sulla base di procedure specifiche. La maggior parte delle situazioni possono essere dovute alla ricerca di questi casi. Quindi quando una persona risulta positiva c'è tutto un lavoro di ricerca dei contatti che questa persona ha avuto per cercare di circoscrivere subito la propagazione del fenomeno. In vista dell'autunno, Regione e Alisa intendono predisporre un piano ospedaliero capace di affrontare un nuovo eventuale picco epidemico. Per esempio si studia il potenziamento della medicina territoriale, portando l'assistenza il più possibile a domicilio. Una presenza più capillare, insomma, dei medici di famiglia e dei professionisti sanitari. L'impegno futuro di questo piano prenderà in considerazione un potenziamento anche numerico molto importante dalle professioni sanitarie. Infermieri professionali, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione, con tutte figure che possono aiutare ad arrivare vicino al cittadino. A proposito di territorio, la sanità regionale crede ancora al mantenimento dell'ospedale di Sestri Levante? Le intenzioni sono quelle di confermare quanto ho previsto le polemiche o quant'altro. Là c'è un po' il tempo che trovano. Non c'è una modifica di programmazione sanitaria. Sono 2.131. In Liguria le denunce per infortunio sul lavoro da Covid registrate dall'INAIL da gennaio al 31 maggio. Più colpita la provincia di Genova e le donne. E tra le professioni, soprattutto il comparto medico-sanitario. I dettagli nel servizio. L'assenza dal lavoro per contagio da Covid è stato parificato dall'INAIL come infortunio. Tra gennaio e fine maggio le denunce all'ente nazionale di assicurazione sono poco più di 47.000 in tutta Italia, 2.131 in Liguria. Nella nostra regione 10 casi si sono rivelati immortali, il 4,8% del numero nazionale che ammonta 208 decessi. Più colpite le donne, 69,6%, contro il 30,4% degli uomini. E le fasce di età tra i 50 e i 64 anni e tra i 35 e i 49 anni. La provincia di Genova è quella che ha fatto registrare più casi, il 56,3%, Savona il più basso. Per quanto riguarda l'industria dei servizi, primo posto in Liguria come numero di denunce per la sanità e l'assistenza con il 75,3%. Seguono l'amministrazione pubblica, il noleggio e i servizi di pulizia, il commercio e la navigazione. Le professionalità invece più colpite sono quelle dei tecnici della salute, 45,1%, poi infermieri, medici, os, ausiliari ospedalieri, assistenti e accompagnatori per disabili, ma anche impiegati di segreteria, personale dell'istruzione e dei servizi di pulizia di alberghi, uffici, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli. Ora si va verso nuove aperture, mentre si conclude la sesta settimana dopo la riapertura del 4 maggio. In un quadro quello Ligure è sostanzialmente incoraggiante. Non devono evidentemente far scendere l'attenzione delle misure che sono state prima ricordate, tre misure molto semplici, distanziamento fisico e non sociale, almeno un metro, mascherina laddove serva e lavaggio delle mani. Così credo che ci potremmo avviare nel giro di qualche settimana a quel fatidico contagi zero, che è l'indice che tutti auguriamo, a il recovery zero. Ci siamo arrivati già questa settimana e mi sembra che sia sicuramente un dato incoraggiante. Le criticità sulla rete autostradale Ligure sono state tema di un incontro che si è svolto a Chiavari. Il presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL4, Giuseppe Corticelli, a nome di tutti i sindaci del territorio, ha sottoscritto una richiesta indirizzata alla regione Liguria in relazione ai disservizi registrati per il trasporto di emergenza dei malati. In particolare i sindaci sollecitano provvedimenti urgenti nel tratto della A12 tra Sestri Levante e Genova, in cui si determinano pericolosi ritardi nel trasferimento delle urgenze verso gli ospedali genovesi. Gli amministratori dunque chiedono al presidente Toti e agli assessori competenti la possibilità di mettere a disposizione del territorio un'eliambulanza permanente o altre soluzioni in grado di risolvere questo disagio. Passiamo adesso alla scuola. La conferenza delle regioni ha fissato le linee guida condivise per la ripartenza delle lezioni a settembre e ha trasmesso le indicazioni al Ministero dell'Istruzione. Vediamo insieme alcuni dei punti principali. Non solo una ripartenza dell'anno scolastico a settembre, ma un vero e proprio ritorno in classe. È quello che auspica la conferenza delle regioni, che ha fissato le linee guida per i rientri a scuola a settembre e le ha trasmesse al Ministero dell'Istruzione. Punto principale è la ripartenza in presenza degli alunni, senza didattica a distanza anche per gli studenti più grandi. La posizione delle regioni è quella di escluderla, proprio perché si vuole una ripartenza della scuola in presenza per gli alunni, quindi con gli accorgimenti, con la distanza, così come abbiamo detto, ma non con la possibilità di una didattica mista. Il distanziamento tra gli alunni sarà fondamentale nel nuovo anno scolastico. Niente plexiglass tra i banchi, ma distanze fisse da rispettare, sia nelle fasi di spostamento che durante le lezioni. Abbiamo previsto la possibilità di ingressi e uscite con il distanziamento di un metro dei ragazzi, ma non con il frazionamento delle classi che comporterebbe una difficoltà per l'organizzazione scolastica. Abbiamo posto come misura per il distanziamento degli alunni all'interno delle classi quello dei due metri quadri di garanzia di spazio individuale. In aggiunta come parametro, il distanziamento della cattedra rispetto alla prima fila di banchi dei due metri lineari. Non saranno necessarie le mascherine durante le lezioni, ma andranno indossate in via precauzionale durante le fasi di spostamento. Il documento disciplina anche le misure di sanificazione e igienizzazione degli spazi, chiedendo un potenziamento del personale ATA all'interno degli istituti. Via libera anche al consumo di pasti a scuola. Ci siamo espressi in maniera assolutamente chiara e affermativa per la possibilità che venga consumato il pasto a scuola sia con mense veicolate che con mense dirette, dando delle regole organizzative molto chiare e ovviamente anche di pulizia e di igiene, però consentendo il consumo del pasto e della mensa a scuola. Nuova ordinanza di Regione Liguria. Dal 19 giugno riapriranno i congressi, grandi eventi fieristici, le sale da gioco e le discoteche. Sono confermate le aperture delle attività di formazione che si potranno realizzare in differenti contesti, sia in aula, sia nei laboratori e nelle imprese, compresi gli esami finali, le attività di verifica, di accompagnamento e di tutoraggio e di orientamento, oltre ai percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale. E ora parliamo della promozione turistica e della gestione dei servizi che saranno fondamentali per la ripresa estiva nelle località del nostro territorio. A Sesti Levante, la società partecipata che se ne occupa Mediaterraneo Servizi, ha presentato ieri il bilancio 2019 che presenta una crescita dei ricavi rispetto all'anno precedente. Ne abbiamo parlato con l'amministratore Massucco. Sentiamo. Bilancio in positivo con un volume di ricavi di oltre 1.700.000 euro, più 15% rispetto all'anno precedente. Prosegue la crescita costante dei ricavi di Mediaterraneo Servizi. La società partecipata del Comune di Sesti Levante, che si occupa di promozione, sviluppo turistico e gestione dei servizi. Rispetto all'anno precedente, la grossa novità sicuramente è stato il sistema della sosta a pagamento della città che ci è stato affidato da inizio aprile 2019. Abbiamo riversato nelle casse del Comune oltre un milione di euro di incassi della sosta dei nove mesi e quindi, insomma, un risultato importante. Altre voci importanti che sicuramente hanno inciso sul 2019 è stata veramente forse un'annata irripetibile anche dal punto di vista degli eventi congressuali e dei matrimoni, perché abbiamo avuto il Comune dell'Annunziata occupato per più di 200 giorni sull'anno fa. Numeri importanti e irripetibili nel 2020, in cui l'emergenza sanitaria ha mischiato le carte in tavola e costretto ad una riorganizzazione degli eventi estivi e una rimodulazione dei servizi. Quindi ci siamo concentrati nel primo momento a cercare di offrire una serie di servizi anche ai cittadini residenti appena è finito il lockdown, come ad esempio il bike sharing gratuito piuttosto che il noleggiare la flotta di mountain bike elettriche che abbiamo a disposizione a prezzi insomma molto bassi per i residenti. E adesso che proprio in queste ore è stata sbloccata, come si aspicava, la possibilità di fare congressi ed eventi, abbiamo ripreso subito dal punto di vista di essere di supporto ad esempio per offrire l'Annunziata come sede per i concorsi pubblici che sono quasi di stati pubblici, sono stati tutti bloccati nei mesi scorsi. Pur avendo posticipato all'autunno alcuni degli eventi di maggior richiamo, come il Festival Anderson, domenica 21 si trarrà il primo concerto al Teatro Conchiglia con prenotazioni obbligatorie e un massimo di 120 posti per la trentesima edizione del Blues and Soul Festival. Sempre al teatro da luglio partiranno poi le proiezioni di film all'aperto in collaborazione con il Cinema Ariston. L'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha stipulato un accordo con la Guardia Costiera per il controllo delle spiagge sul rispetto delle norme di comportamento anticontagio. Da oggi fino al 31 agosto, tutti i giorni per 10 ore al giorno, sarà prevista la presenza di quattro persone che monitoreranno le 12 spiagge libere comunali tra Paraggi e Piazza del Sole. Eventuali situazioni anomale saranno segnalate alle forze dell'ordine. L'operazione comporterà una spesa di quasi 10.000 euro. Confermato inoltre anche per quest'anno il servizio di battello per la pulizia del mare. E ora siamo all'informazione religiosa. Veniamo in Diocesi. Oggi si celebra Sant'Antonio. Questa mattina il Vescovo ha presieduto la messa al Santuario di Chiavari. Durante l'Omelia Monsignor Tanasini ha ricordato che quest'anno si ricordano gli 800 anni dalla devozione francescana del Santo. Il Vescovo ha quindi ripercorso le tappe della vita di Sant'Antonio e ha spiegato che seppur giovane è sempre stato mosso dal desiderio di vivere il Vangelo. Un esempio dunque ancora oggi per tutti noi. Ne ascoltiamo un passaggio. La vera devozione a Sant'Antonio è decidere di vivere di più il Vangelo. Di prenderlo di più sul serio. Di essere pronti a viverlo come il Signore ci chiede. Come ha fatto Lui. Pino a cambiare vita come ha fatto Lui. Pino a accettare il nascondimento come ha fatto Lui. Pino a chiedere al Signore di purificare il nostro cuore, accettando la purificazione grande della malattia grande della malattia grande della umiliazione e così via. Saremo capaci di vivere questa devozione. Saremo capaci di scoprire la nostra vocazione. come Lui è stato capace di scoprire la sua vocazione. Ognuno di noi ha la sua vocazione, ma pensiamola a questa vocazione di papà, di mamma, di lavoratori. Pensiamola nella luce del Vangelo. Il nostro cambiamento, se è necessario, sia questo. Un servizio più completo nei telegiornali di questa sera. Naturalmente questa mattina a Chiavari non c'è stata la processione per le vie della città a causa delle norme anticontagio. Domani invece il Vescovo celebrerà nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio, a Sesti Levante, la messa sempre con inizio alle ore 11. Si è spento a 76 anni Luigino Giovo, punto di riferimento per il quartiere di San Siro a Santa Margherita Ligure, per lungo tempo gestore del negozio di alimentari tra Piazza San Siro e Via Gibilarco. Ricordato con affetto da grandi e piccini che hanno frequentato la sua bottega, ogni anno organizzava per la parrocchia e per le famiglie una visita ai presepi più caratteristici della Liguria. Lascia la moglie Aurora e il figlio Giovanni. Il funerale si terrà lunedì alle 16 nella chiesa di San Siro, preceduto dal Rosario, alle 15.30. Rapallo si prepara a celebrare le feste di luglio in onore di Maria, con modalità in parte diverse. Quest'anno la pandemia ha generato una marcata situazione di difficoltà in città e questo tempo così atteso arriva come un segno di speranza. Sentiamo Emanuela Castello. Rapallo attende le feste di luglio come segno di speranza per una città ferita dalle conseguenze della pandemia. Nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio sono confermate le celebrazioni della novena ogni giorno alle 7 e alle 18. Le riflessioni della liturgia del pomeriggio verranno guidate dai diaconi e saranno incentrate proprio sul tema della speranza. Mai come quest'anno, almeno in questi ultimi anni, avrebbe da dire sono così importanti e preziosi questo tempo di preghiera che non è quindi, come dire, solo un tempo di festa, non lo è mai, ma in particolare quest'anno, come dire, dove certamente le manifestazioni saranno un po' più contenute, rimesse, per tanti motivi che potete immaginare, ma non mancheranno perché appunto non di solo pane viviamo, abbiamo bisogno anche di segni, di luci, di speranza per continuare la nostra vita e credere nel nostro impegno. La mattina del primo di luglio la tradizionale celebrazione eucaristica per l'incoronazione della statua di Maria e la cosiddetta messa in cassa si svolgerà secondo un programma differente. Monsignor Tanasini presiderà la messa alle 7 e in chiesa si potrà accedere secondo le norme di distanziamento consuete. Non sarà possibile poi entrare solo per assistere all'incoronazione. Prima non avremmo avuto i tempi tecnici per far uscire le persone dopo la celebrazione, igienizzare e riaprire la basilica, con il rischio che poi le persone cerchino, come è normale che sia, di sostare il più possibile vicino all'arca. Quindi le persone che vorranno venire dovranno venire a messa e rimarranno nei posti che sono fissati per rispettare le norme. La sera del 3 luglio la tradizionale processione non ci sarà impossibile rispettare le norme di distanziamento. Sarà dunque celebrata la messa alla sera nella piazza del comune. Una celebrazione con tutti i paroci della città sarà preseduta dal Vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla e per l'occasione verrà portato giù dal santuario di Montalegro del Rettore il quadretto che ci ha donato appunto la Madonna. E ora veniamo a Chiavari dove quest'anno la fiera del 2 luglio non si svolgerà. È una delle novità che riguardano appunto le feste che si stanno organizzando in questi giorni a Chiavari. Su questo abbiamo intervistato il sindaco Marco Di Capua. Sentiamo questo passaggio. Ho fatto un incontro con i rappresentanti del Vescovo con Don Andrea Buffoli e Don Mimo Borzini con il colonnello Gerardi dei Carabinieri e con il vicequestore Dottor Capurro. Abbiamo stabilito insieme di comune accordo per motivi di sicurezza innanzitutto di non fare fuochi la sera del 3 luglio per evitare assembramenti di persone. non ci sarà la tradizionale processione con la cassa ma l'ipotesi che abbiamo allo studio è quella di portare la cassa in piazza Madonna dell'Orto e fare una messa chiudendo tutta piazza Nostra Signora dell'Orto e via La Rata per evitare assembramenti durante il passaggio della patrona della nostra città per tutti i fedeli. Per quanto riguarda invece la fiera nonostante il governo permetta il svolgimento sempre di comune accordo con le forze dell'ordine abbiamo stabilito per motivi di Covid per evitare contagi visto che considerato che tanti banchi vengono anche da zone del nord Italia vista l'impossibilità di garantire il distanziamento sociale con oltre 380 banchi ricordiamo che nel mercato settimanale sono 104 banchi la fiera di luglio è 380 significava bloccare la città ci sarà un provvedimento ad hoc che per quest'anno sospende la fiera di luglio. Adesso andiamo a Rapallo Zoali gli insegnanti dell'istituto comprensivo hanno scelto di concludere quest'anno scolastico così difficile per la didattica a distanza portando avanti uno dei progetti principali sulla lettura ad alta voce ogni giorno sul canale Youtube della scuola è stato letto un libro ad alta voce con la presenza degli autori il servizio è stato un modo per essere vicini ai bambini e alle famiglie in occasione dell'ultimo giorno di scuola le letture sono state in diretta Facebook con canzone finale domani si celebra la giornata mondiale dei donatori di sangue nell'occasione la facciata del comune di Santa Margherita Ligure del municipio si tingerà di rosso e sarà esposta la bandiera dell'Avis ecco vedete l'immagine e poi ricordiamo che sempre domani 14 giugno dalle 9.30 alle 12 si svolgerà l'assemblea dei soci del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Chiavarese la riunione è convocata nei locali della Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari ora la rassegna stampa e poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti prima pagina di avvenire assegno da coprire sul Family Act i rischi dei tempi lunghi dei decreti e delle risorse da trovare si punta all'avvio a gennaio ma il Consiglio dei Ministri si è preso 12 mesi dal sì delle Camere e poi c'è il nodo del fisco all'interno del quotidiano cattolico la dichiarazione di Stefano Lepri deputato DEM autore della proposta sull'assegno unico servono 6 o 7 miliardi possono arrivare dai fondi europei o dalla revisione della spesa voto in aula entro l'estate possibile il consenso unanime prima pagina del secolo XIX focus sulle autostrade code la Liguria allo stremo è lite tra Toti e De Micheli il Presidente pronti a chiedere i danni la Ministra però replica basta polemiche avevi approvato gli interventi all'interno del giornale cantieri in autostrada il traffico paralizza Genova e la Liguria e scoppia la lite giornata nefasta commenta Toti risponde la De Micheli avevi ritenuto il piano della mobilità alternativa sufficiente c'è una dichiarazione anche di autostrade siamo in contatto costante con la regione massimo impegno per interventi che diano sicurezza ora la prima pagina del Levante battellieri del Tiguglio riparte la stagione non copriamo i costi il consorzio speriamo che si muova il turismo ma è dura con gli attuali passeggeri i comuni di Santa, Rapallo e Portofino usino i nostri mezzi nel trasporto pubblico e intanto restano a casa molti dipendenti stagionali San Fruttuoso spiaggia numero chiuso massimo 150 persone all'interno la cronaca infiltrazioni dell'Andrangheta Lavagna sentenza d'appello il 26 di giugno le udienze del processo si sono concluse ieri a Palazzo di Giustizia chiesta l'assoluzione per l'ex parlamentare Mondello e l'ex sindaco Sanguinetti infine lo sport entella ecco le tappe del Tour de Force che comincerà sabato a Cosenza dopo oltre tre mesi senza gare e come ripartire da zero da lunedì 15 giugno al 15 settembre scatta la pedonalizzazione del centro città a Lavagna nel dettaglio saranno chiusi al transito veicolare a partire dalle 18 e 30 fino a luna di notte via Dante piazza della Libertà via 20 settembre modifica la viabilità anche nel borgo di Cavi dove sarà istituito un senso unico di marcia in via Milite Ignoto il provvedimento intende assicurare gli operatori del settore ristorativo l'ampliamento del suolo pubblico a loro disposizione nonostante le limitazioni che la messa in sicurezza del torrente Barassi impone adesso andiamo in redazione per le ultime novità è pronto Giacomo Rizzi a te Giacomo grazie Maurizzi un saluto a chi ci segue nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Chiavari hanno sventato una compraventa di droga di eroina che hanno sorpreso proprio questo scambio che sta avvenendo tra un 48enne di Lavagna che era l'acquidente e il pusher che era un 52enne residente a Chiavari con precedenti gli agenti hanno poi proseguito con la perquisizione domiciliare appunto dello spagiatore e nella sua abitazione è stata rinvenuta una modica quantità sempre di eroina un bilancino di precisione e sono stati entrambi sequestrati il 52enne di Chiavari appunto è stato arrestato per spaccio e detenzione di stupefacente questa mattina si svolgerà il processo per direttissima dalla redazione tutto la linea può tornare allo studio bene grazie diamo uno sguardo alla nostra programmazione questa sera alle 21 e 10 su Telepace 1 al canale 15 primo appuntamento della rassegna di concerti di musica classica inseriti nel progetto Vincerò dal salone degli arazzi del collegio Alberoni di Piacenza sarà proposta la sinfonia numero 9 la corale di Beethoven eseguita dalla Monferrato Classica Orchestra il progetto fa capo a radio PNR della diocesi di Tortona sotto la direzione di Don Paolo Padrini lo scopo di questa rassegna è sostenere i musicisti in questo momento di difficoltà con la distribuzione dei contenuti musicali sul digitale sui canali televisivi una modalità che naturalmente non potrà sostituire l'esperienza dell'ascolto in sala ma che può aiutare esecutori e ascoltatori in questo difficile momento per la musica dal vivo in generale i concerti saranno introdotti da una guida all'ascolto per consentire anche a chi non è esperto di musica classica di avvicinarsi all'esecuzione la scelta di iniziare con Beethoven è un omaggio al 250esimo anniversario dalla nascita del compositore Siamo in conclusione vi ricordo oggi pomeriggio alle 17 la messa in diretta dal santuario di Montallegro dove torneremo a collegarci domani alle 15 per la donazione eucaristica alle 16 il vespro alle 17 la messa è la celebrazione del Corpus Domini così domani mattina alle 9.40 ci collegheremo in diretta con la Basilica di San Pietro per la messa presieduta dal Papa sempre in occasione della solennità del Corpus Domini Bene, è tutto per questa edizione del Telegiornale ci ritroviamo stasera alle 19.15 grazie per l'attenzione buon proseguimento di giornata buona domenica a tutti a tutti i nostri spedetti